Aspetta, com'è? Ora ti è da dire che questa chi le dà la lapide al zio Sir? Vieni cazzo, non la facciamo una foto insieme. Se voglio la metto sulla lapide. Cosa sarà stata quella roba la? Una roba militare. Aspetta, aspetta. Stai, stai, stai. Stai, stai, stai. Stai, stai, stai. Ah, shit.